Se stai cercando degli antipassi da fare con carciofi e patate, prova a fare questi. Per prima cosa fate cuocere le patate tagliate a cubetti e pulite e tagliate i carciofi. Vi ho risparmiato il video di come si puliscono i carciofi, tanto lo sapete meglio di me come si fa. In una pentola fate scaldare l'olio con l'aglio e fate cuocere i carciofi. Aggiustate di sale, alzate la fiamma e li fate cuocere circa 7 minuti. Mettete le patate in una ciotola e le schiacciate. Unite i carciofi, il parmigiano e la scamorza a dadini. E alla fine sale e pepe. E mettete l'impasto nella pasta sfoglia. Forellate la pasta sfoglia e tagliate a pezzi. La ungete con l'olio. Il forno è caldo, inforniamo.